Benvenuti nella New York clandestina, dove la competizione è brutale e ognuno si batte per diventare il migliore. In questo gioco fai un passo indietro e tutti quanti ti abbandonano. Per Sean McArthur ogni giorno era una lotta per la sopravvivenza. Libri, DVD, 20 dollari! Finché gli diedero la possibilità. Proprio niente male la tua esibizione di oggi, sai? Di essere qualcosa di più. Ti piace batterti? Se mi costringono ti posso far guadagnare 5.000 dollari. Ho attirato la tua attenzione, eh? Ci sono delle regole? Sì, se perdi non ti danno niente. Guadagnati lo stipendio. Perché non ti ho mai visto? Senza offesa, ma neanche io ti ho mai visto. Forse Harvey ha trovato un vincente. Questo ci sa fare. Sono Sean. Zulai. Un nome strano? Sì. Aspetti finché entri in casa. Grazie, Sean. Uh, mi hai chiamato Sean. Mi piace, buonanotte! Ora, ogni combattimento. È bello grosso, non ti abitinare troppo. Grazie del consiglio. È un passo in più. Che ci fai qui? Sono qui intorno da due ore sperando che arrivi. Verso la vita che ha sempre desiderato. Dove stiamo andando? Siamo in una Mercedes da 100.000 dollari. Ecco dove stiamo andando. Ma ogni cosa ha il suo prezzo. Questa gente controlla tutta la città. Abbiamo perso puntando sulla tua sconfitta. La prossima volta fate la puntata giusta. Quest'anno... Forse dovremmo inserire il tuo uomo in uno dei nostri match. Un grande match. Mezzo milione di dollari al vincitore. Ci sono rischi che vale la pena correre. Che sta succedendo? Ho scommesso tutti i miei soldi contro di noi. Ci sono sogni. Perché mi fai questo? C'è un mucchio di soldi in ballo. Per cui vale la pena battersi. Credi che non abbia capito che non conto? Lo so, non conto niente. Ma l'unico modo che ho di perdere è quello di essere battuto. Ti verremo a cercare. Non mi fai paura. Non mi fai paura. Non mi fai paura. Non mi fai paura. Ho scopato. Vaationsfort songs. Tiож fifteen. Non mi fai paura. Però faccio usare i miei soldi audio. Non mi fai paura insopì. Non mi fai paura.